buongiorno a tutti stamattina proveremo due strozzatori ported della gemini un 4 stelle un 3 stelle su una canna 61 beretta ultraleggero calibro 12 distanza 25 metri entrambe le canne cartucce 36 grammi più un botto con contenitore andiamo a vedere vediamo la rosata cartuccia 36 grammi classica con contenitore come vedete il 4 stelle aperto molto bene però mantiene sempre un'ottima potenza vedete bene poi vi farò la foto mentre il 3 stelle guardate che concentrazione di piombo che ha qui si può tranquillamente sparare anche 10 15 metri più più indietro vedete bene andate paragonata a una mano la rosata e fa ancora molto concentrato alla prossima grazie a tutti grazie a tutti